Allora, arrivare qui dal posto non è affatto semplice Senza avvalenarsi, tra parentesi Spero che non arriva una pietrata di sopra, infatti Questi no Non attaccano, a quanto pare Sono dei strani rumorini, ma non attaccano Ehm, mo Sicuro che c'è un boss Che posso fare per aiutarmi Posso mettere la resina dorata Eccoci Eh, ragnozzo Non c'era capito che era un ragnozzo Poi tutta l'altra parte me la scorrerei Tra l'altro di fuoco fa danno Infine con le poppe enormi Signorina, è divertita la signorina Sì, ma se lo pigliamo magari E anche a me è io Pazzarola, no, sono morto Via, 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 via Cazzo Se ti tiro la palla di fuoco non gli faccio niente, immagino Combo Eh, la palla di fuoco, mannaggia Con la tua sorella Ma è una prova non gliela devo fare Aspetta Che sta sparando Della merda Ah, non gli fa proprio nulla Cazzo Fatti affidare dell'epinomanzia Eh, ma due ore Che giù attacco Eh, non sta andando malissimo Credo ti stia vomitando Aspetta un attimo Mettilo scudo Eh, ma ti sta riducendo lo spazio di scattinata Aia No, no, no No Ce ne vuole un'altra di cura Sì, ma non la piglia Non la piglia A tua mamma, eh Con certo lagne Nelle rotolate Ma non è Non è vero Ma scusatemi Eh, non sono attrezzato contro il fuoco, forse Peccato perché non era andata male, eh Passiamoci di qui, eh Ok, devo capire anche quando fa le scuriate Qua esso Provo tutto per tutto Oh Al primo polpo Ma germano Ma cosa mi convini Mamma mia Un boss al primo colpo Wow Beh, non era difficile Sembrava affatto difficile Eh, io però vorrei continuare a esplorare Anche dietro Vediamo se c'è magari un falò da queste zone È impossibile Che non ci sia un falò No Non c'erano 20.000 anni Ma io dove dovrei andare Scusatemi Non c'erano Ma Eh, di qua dove cazzo si sta andando Un'altra parte, immagino Ma ci dovrebbe essere un falò da queste parti Dopo un boss Infatti c'è Ecco lì davanti a me Eh, ok Rovine del demone Eh, momento, eh Il falò è stato acceso Ci ripostiamo Ed esco Perché in realtà Con 20.000 anime Quello che potrei fare È comprare la chiave Dal fabbro Certo, mi devo fare una scarpinata da panico Però Una volta che ho 20.000 anni Me lo farei Il problema è che Se le perdo No, no Che cazzo Fammi tutta Poveri livelli di forza E non ci si pensa più Allora, un attimo Perché volevo vedere anche di sopra Perché C'erano altre strade di sopra Non so se mantenere adesso anche questo costume Ho visto che non ci serve più Questo Tipo Sì Eh, posso uccidere? No, parla Perché c'è un falo lì? Servitore Eeeh Oh, come ho di sì Eh, no, non ancora Questa là Ah, ok Mi scusi Mi scusi Posso? Certo Devevamo pesare tutte quelle uova Immagino proprio di Eeeh Un altro falo Ok Era necessario questo falo Ah, ma è la signorina che abbiamo appena ucciso No? Con le poppe al vento Scusi Possiamo parlare? Ah, potenza fisca e tessus Eh, sì Eh, no, non parla Vabbè Ok Cioè, lasciamoci Mamma mia, Germano Pala di fuoco Caos Migliorata Oppela Stiamo calmi Offri umanità Non posso qualcuna umanità Forse è meglio Prima di lasciare qualche umanità Cercarmi Cosa mi danno queste umanità Che do Alla signorina E quante gliene devo dare Perché sennò Eeeh Magari Chiudo questo video qui Cerco subito Eeeh E insomma Ieri lascio Succedi obbietti Ne ho Di umanità Eeeh Sono 12 12 6 18 Va bene Succedi obbietti Succedi obbietti Succedi obbietti Succedi obbietti Succedi obbietti Succedi obbietti